Erano prodotti in Cina, Turchia, Egitto, Ungheria e Slovenia, ma riportavano il marchio Made in Italy 3 milioni di capi d'abbigliamento e accessori scoperti e sequestrati dalla Guardia di Finanza di Prato in alcuni capannoni nella zona industriale di Prato, 10 gli imprenditori cinesi che sono stati denunciati per frodi in commercio, ricettazione, contraffazione, vendita di prodotti industriali, consegni mendaci e impiego di manodopera clandestina, 5 le imprese a cui è stata sospesa l'attività per il rilevante impiego di lavoratori in nero. La merce sequestrata è pari a circa 530 mila metri quadri di tessuto per un valore complessivo di circa 18 milioni di euro. A dare il via alle indagini, la presenza sul mercato di capi d'abbigliamento e tessuti di origine cinese, turca, egiziana, ungherese e slovena, che si trasformavano in prodotti 100% Made in Italy. Una magica trasformazione riconducibile, però un semplice trucco, quello di apporre sui capi e sulle confezioni etichette e diciture che attestavano falsamente come il prodotto fosse interamente realizzato in Italia. Stampe, etichette, bandiere dell'Italia, la figura geografica dello stivale, l'utilizzo dei colori verdi, bianco e rosso, tutto ciò che era idoneo a indurre in inganno il consumatore. La maggior parte dei capi, circa il 90%, avevano una composizione tessile completamente difforme da quella indicata, capi che per attirare il compratore si freggiavano di etichette fasulle a testanti il Made in Italy, oppure la composizione di fibre quali cashmere, seta, alpaca e lana, mentre in realtà si trattava di comuni tessuti sintetici. Una serie di trucchetti che consentivano agli imprenditori cinesi denunciati di incrementare di oltre il 500% il valore di quei capi contraffatti, destinandoli in buona parte all'esportazione, pur non rispettando minimamente gli standard qualitativi del prodotto Made in Italy, con conseguente danno economico ed immagine su tutta l'autentica produzione nazionale.